Oh, salve i modellisti galattici! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche! Non so se l'avete notato, ma siete aumentati tantissimo nell'ultimo periodo. Il canale YouTube ha superato i 200 iscritti, questo vuol dire solo una cosa. Siamo qui per il nostro secondo giveaway! Benvenuti nella frangia meridionale dove io e mio cugino Giulio senza sosta da giorni stiamo combattendo. Nel frattempo tra una schermaglia e l'altra abbiamo saputo che abbiamo raggiunto con il canale ben 200 iscritti. 200 iscritti che salutiamo uno per uno e come promesso abbiamo un fantastico giveaway da rilasciare. Questa volta però le cose si complicano leggermente, non sarà più sufficiente postare un commento simpatico e divertente sotto il video di annuncio del giveaway, ma... Dopo il successo del primo abbiamo deciso di premiarvi con un secondo giveaway. Come fate? Come fare per vincere questa volta? Beh, innanzitutto, punto uno, dovete iscrivervi al nostro canale YouTube Guida Galattica per Modellisti. Seconda cosa, mettete il mi piace a questo video. Terzo, ma non ultimo, stavolta non sarà così facile. Stavolta dovete girare voi un video. Dovrete girare un breve video di 5-10 secondi, non di più, in cui spiegate cos'è il modellismo per voi. Dovete poi postarlo o sulla nostra pagina Facebook, di cui trovate il link qui sotto, oppure sul vostro profilo Instagram taggando la neonata pagina Instagram della Guida Galattica per Modellisti. Il miglior video avranno l'opportunità di vincere un fantastico premio, che vi mostreremo nei prossimi video. Direttamente dal pulsino del caro Paesiello, eh? Questo è il gelato di Sigmar. È buono il gelato. Questo perché stiamo lavorando per voi, ragazzi. Stiamo mantenendo in forze per tanti tanti nuovi video. La creatività è importantissima, quindi sbizzarritevi con questi video. Il premio sarà qualcosa di molto particolare, quindi restate sintonizzati e vedrete che la vostra creatività sarà premiata. Vi volevo anche ricordare che da oggi Guida Galattica per Modellisti è anche su Instagram, quindi cercateci, trovateci, mettete il curicino, il mi piace e rimanete sempre aggiornati su tutte quante le novità della frangia meridionale e dalle altre parti della galassia di dove in questo momento siamo in missione e stiamo lavorando veramente veramente duro. Grazie per averci seguito e al prossimo video. Ciao! Vi aspettiamo! A presto! Galattici amici ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti nella frangia meridionale dove senza sosta stiamo combattendo le forze del caos che impestano la regione. Dai, smettete questi video, scendiamo a mare che ci aspettano in spiaggia. Il Dovere ci chiama ragazzi! Scusate ragazzi, Il Dovere ci chiama! Ciao!